un saluto agli amici di minico snake allora stamattina unboxing in auto sono passato a ritirare il pacco che mi è arrivato da one class infatti all'interno dovrebbero esserci le one plus ballets ma subito dopo la sigla ok ragazzi allora riaccomi qua allora abbiamo pacco giallo lo riconoscete subito e di hl ma passiamo subito ai fatti lo faccio in auto perché veramente anzi sinceramente io non ho avuto tempo sono rientrato tardi e non ce l'ho fatta a ritirare il pacco dall'ufficio infatti stamattina la prima cosa che ho dovuto fare è andare a ritirare il pacco per fare questo video unboxing allora eccolo qua la solita confezione di one plus ma andiamo ad aprirla subito perché non ci resisto e vola ci sta all'interno quasi la l'ordine d'acquisto perfetto ok e ragazzi faccio uscire il pacco di una classe che mai ci riuscire vediamo un attimino vuola come al solito one plus la solita cura nei dettagli guardate un po ragazzi credetemi sono davvero contentissimo di aver fatto questo acquisto le stavo tenendo d'occhio da un bel po un giorno ci stavano un giorno no ma passiamo subito all'apertura perché voglio subito vederle toccarle con mano e magari dopo girare qualche parte e provare anche subito microfono che ne dite allora io apro la scatolina wow ragazzi prima di tutto formidabile ecco le ballets di one plus e qui abbiamo la custodia oggi subito vedere la custodia perché la prima cosa che mi salta all'occhio di questo colore rossa semmai riuscire ma wow ve li faccio anche vedere i vari commini per poterli adattare ai vari condotti uditivi ma ragazzi davvero fantastico cura della confezione veramente molto dettagliata e andiamo subito a prendere quella che la custodia per trasportare le ballets di one plus no ragazzi davvero davvero bella allora il magnete che mantiene chiusa la la custodia e all'interno ci sta un'altra cosa ragazzi allora il cavetto usb c per poter eseguire la ricarica come al solito il cavetto rosso bianco ma no ragazzi voglio farvi vedere che spettacolo mettiamo all'interno ma passiamo al pezzo forte posiamo la custodia e andiamo ad aprire le ballets allora semmai ci riuscirei ma sicuramente ed eccole qua ragazzi favolosissime il solito libretto delle istruzioni e vola eccole qua ragazzi ma davvero dai una cura nei dettagli anche sulla confezione one plus ma davvero mi ha stupito mi ha stupito e queste saranno quelle cuffie mi faranno compagnia tutti i giorni anche nelle ore lavorative che ragazzi eccole qua ma no dai veramente formidabili formidabili davvero ragazzi eccole qua adesso non resta altro che provarle vediamo un po tolgo queste qua e metto subito a collo queste vediamo un attimino quale senso ok penso che debba andare così ragazzi ma la forza è questo magnete poi del resto beh si sono anche già accese no ragazzi formidabile mi stanno anche divinamente nelle orecchie non devo nemmeno cambiare i gommini dei condotti uditivi davvero davvero fantastiche davvero fantastiche allora ragazzi ho già configurato le mie cuffie del di one plus le bellezze di one plus e devo dire che sono veramente formidabili ragazzi formidabili l'animazione beh che dire che ne facciamo di quell'animazione delle appos vabbè lasciamo a stare a parte la concorrenza ma comunque già le ho configurate le ho le ho collegate al telefono batteria all'ottanta per cento quindi sicuramente durante la giornata ce la farò ad utilizzarle adesso si sono connessi ma sicuramente si saranno anche spente come diceva il buon signore allora ragazzi volevo portarvi una prova audio però dimenticavo che l'applicazione cinema fv5 con la video ripresa dalla fotocamera frontale non parte l'audio in bluetooth quindi l'audio in bluetooth ve lo porto magari in un mio video più approfondito di queste one plus ballets e se questo video unboxing ragazzi come al solito se vi è piaciuto aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti se vi è piaciuto lasciate tutti i vostri like e animazione finale anche in questo unboxing l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale voglio ricordarvi sono presente anche su instagram chioccio la mitico snake qua in basso là dove passano tutte le novità per poi arrivare qui sul canale youtube e noi ci vediamo sempre qui su questo canale ovvero sul mio canale youtube sempre qui domenica mattina ciao intanto io vado già ragazzi veramente non ci sta paragoni con altre cuffie io intanto le indosso ed ecco qua le ho messe già nel pezzo sbagliato ma vabbè mi ci devo un pochino abituare vediamo un po' e ragazzi le metto ciao 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 ciao